Passo se ce l'hai il tuo Cindy Race Ricorda che non funziona sui Pokémon Dynamax No, si è fermata sulla Master Ball Nooo Si è fermata sulla Master Ball La roulette Ragazzi Queste sono 100.000 views Lo devo fare Lo devo fare Sono 100.000 views su YouTube Che fai? Te ne privi di 100.000 views? Che fai? Te ne privi? Eh Eh Che fai? Te ne privi? Oh yes Abbiamo preso In un modo Poco virile Snorlax Gigamax E anche Shiny Ovviamente Vediamo cosa ci ha droppato Staffetta resistenza tripletta Va bene È nostro È nostro No A No 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 Grazie per la visione!